il giorno in cui ho capito che sarei entrato in toscano e che in toscano poi sarei anche rimasto è stato il momento in cui ho finito il mio primo ed unico colloquio mi sento di dire di iniziare questo questo percorso senza pregiudizi credici seguici e ti toglierai tante soddisfazioni di armarsi di tanta buona volontà di avere fiducia in ciò che dicono i nostri team para 6 manager e poi di fidarsi fidarsi delle indicazioni che gli vengono date quotidianamente di iniziare il percorso quindi con un con un cervello pulito a chi sta per iniziare in toscano vorrei dire di essere sempre molto determinati e di non aver paura di osare perché chi osa vince sempre ci sarà un tutor che ti seguirà in tutte le fasi lavorative pertanto quello che tu alla prima esperienza dovrai fare è semplicemente mettere in in atto quei consigli che ti vengono dati l'altro consiglio può essere sicuramente quello di impegnarsi al cento per cento può sembrare scontato ma se non diamo tutto non potremmo dire di averci provato veramente